Giulia Dell'Elis e Andrea Damante stanno di nuovo insieme? Parpiglia conferma.Ormai non ci sono più dubbi. Andrea e Giulia sono tornati insieme. La coppia non lo ha ancora annunciato pubblicamente, ma ha ripreso a mostrarsi in giro senza alcun problema. Prima in Sardegna, poi a Mallorca e infine, negli ultimi giorni, a Catania. Inoltre, come se non bastasse, è intervenuto sulla questione Gabriele Parpiglia, giornalista di Chi, e vicino alla coppia, che ha chiarito, che la Dell'Elis è tornata tra le braccia dell'extronista di Uomini e Donne. Andrea e Giulia sono tornati insieme, ha chiesto qualche follower tramite il gioco delle domande su Instagram. Sì, ha risposto in modo diretto e coinciso Parpiglia, punto Andrea e Giulia si sono riavvicinati negli ultimi mesi. Dunque, Andrea Damante e Giulia dell'Elis hanno saputo superare le loro divergenze. Quei problemi che li avevano allontanati, e riprendere più forti di prima. Certo, non sarà facile visto la mole di lavoro che hanno entrambi. Damante è diventato ormai uno dei dei già i più acclamati, sia negli Stati Uniti sia in Europa. Appena può la Dell'Elis lo raggiunge, come accaduto a Mallorca, ma anche lei è molto impegnata con la sua attività di modella, webinfluencer e stilista. Ci vuole più coraggio ad andare avanti e perdonare, piuttosto che starsi a lasciare, io ne sono proprio felice, ha detto di recente Giulia su Instagram, riferendo alla storia di Ida e Riccardo a Temptation Island. Una storia che in parte, sembra quella di Andrea e Giulia, tanto che la dell'Elis si è rispecchiata appieno. Giulia e Andrea non andranno a Temptation Island.Anche se sono tornati insieme, Giulia dell'Elis e Andrea non andranno a Temptation Island, il nuovo programma condotto da Simona Ventura. Durante il periodo delle registrazioni, previste per fine agosto in Sardegna, Damante sarà impegnato con diverse serate in giro per l'Europa. . .